ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco tricopiol a cosa serve tricopiola un parafarmaco appartenente alla categoria degli shampoo e commercializzato in italia dall'azienda la punto c punto m punto a antipiol snc informazioni commerciali titolare la punto c punto m punto a antipiol snc concessionario la punto c punto m punto a antipiol snc categoria di appartenenza shampoo confezioni tricopiol olio shampoo capelli delicati 200 ml fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato